Ciao ragazzi, io sono Nikodin e sono ritornato con un nuovo video, nuova sfida, sfida stelle del futuro, la terza parte Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per stare sempre aggiornati con i miei video Detto questo, possiamo iniziare Questa è la mia proposta per la sfida di oggi e come sempre, iniziamo da qui Grazie Ok Allora ragazzi, prima di tutto questa è una sfida fatta con i giocatori che io li ho trovati nei pacchi Quindi non sono giocatori comprati, sono giocatori scambiabili e non scambiabili Trovati da me nei pacchetti Quindi non so quanto influisce sull'intesa che certi mi dicono che c'è più e meno fedeltà Io vi sto facendo un'idea di come fare questa sfida Andiamo a prendere il pacco E lo apriamo pure Ok, pacchetto oro prime Eccolo qui Sì, è vero C'ho un paio di giocatori Mannaggia la veppa Non li posso aprire Va bene Comunque ragazzi, voi fatemi sapere nei commenti quello che avete trovato voi nel pacchetto E io magari alla prossima sfida gli apro sia questo che l'altro Ragazzi, io sono stato Nikodin Vi ringrazio per aver guardato questo video E ci vediamo al prossimo Ciao